Dopo aver fatto la spesa si è sentito male cadendo a terra privo di sensi mentre si stava avvicinando all'auto parcheggiata nel parcheggio del supermercato a soccorro immediatamente una cassiera che ha salvato la vita all'uomo. È successo nella mattinata di ieri 1 febbraio al supermercato Careful di Viale Milano a Gallarate. Secondo quanto ricostruito l'uomo di 65 anni è andato in arresto cardiaco nel parcheggio del negozio. La cassiera aiutata da colleghi del supermercato ha attivato immediatamente una corretta manovra di rianimazione che ha salvato la vita al 65enne. Come riporta Varese News all'arrivo dei sanitari il paziente era in fibrillazione ventricolare. Grazie anche all'intervento dei medici l'uomo ha ripreso le funzioni vitali. Il 65enne ha ripreso conoscenza tanto da tornare a parlare ma senza ricordarsi quanto accaduto. È stato subito ricoverato per tutti gli accertamenti a salvargli la vita è stata dunque la cassiera già volontaria di un'associazione di soccorso che è intervenuta in pochissimi secondi cercando di tenere il cuore in funzione.